Ragazzi, ragazzi miei, ragazzi miei, Di Bala ha detto sì, Paolo Di Bala ha detto sì, ha accettato questa notte la proposta della Roma, scusate ragazzi, ha pure senza cappello, non ho nemmeno dormito stanotte, aspettate, fatemi mettere il cappello, Di Bala ha detto sì, io non ce posso credere, è arrivato subito, fresco, fresco, io ho detto, se prenderà un paio di giorni di tempo per pensarci, invece no, invece no ha risposto oggi stesso, stanotte, notizia ufficiale di Gianluca Di Marzio, ora ve ne parlo, prima di tutto c'è un mi piace e un commento, raditemi la vostra qui sotto con un commento e ovviamente se siete nuovi iscrivetevi al canale perché notizie usciranno tutti i giorni, video sul calcio mercato e anche altri contenuti, studiati sul mondo Roma, ma anche su tutto il calcio e non solo a 360 gradi, quindi rimanete attivi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e seguitemi i social, Instagram, piattaforma viola, TikTok e i link trovate qua sotto in descrizione e recuperate i video che sono usciti ieri e li trovate nelle schede Ragazzi, Di Bala ha detto sì, posso dirlo? Aspettate, apro la finestra Di Bala ha detto sì Ha detto sì Alla Roma Alla Roma ha detto sì E bisogna fare un elogio Un elogio A parte una statua a Di Bala Un elogio va fatto a Mourinho Un elogio va fatto al nostro mister Perché grazie a lui se Di Bala ha accettato Ci ha pensato Ha valutato le varie alternative Ha deciso di mollare completamente l'Inter Perché si è stufato che l'Inter Purtroppo non lo poteva prendere perché c'aveva 150 miliardi di attaccanti e finché non manda via Sanchez E Dzeko non lo so può prendere Lui si è stufato di aspettare Ovviamente si deve iniziare a allenare con la squadra Anche perché manca un mese all'inizio del campionato E Di Bala ancora senza squadra Il Napoli ovviamente era un po' meno interessato Era solamente un sondaggio l'ha fatto il Napoli Ovviamente non c'è stata l'intesa con De Laurentiis Anche per problemi riferiti ai diritti di immagine E quindi Di Bala ha scelto Roma Ha scelto la nostra squadra ragazzi La pazza dei tifosi romanisti può esplodere dopo la presentazione dell'offerta Infatti alle due inoltrate Paolo ha detto sì L'argentino oggi diventerà un giocatore di Mourinho A meno che ricamero sorpresa No è ufficiale Questa è ufficiale perché l'ha detto anche Gianluca Di Marzio Sky Sport l'ho visto stamattina praticamente su Twitter Un suo Twitter questa notte quindi veramente assurdo Comunque le visite mediche arriveranno nel penso domani dopo domani Quindi tra martedì e mercoledì massimo giovedì ci saranno le visite mediche Che atterrerà a Roma per fare le visite mediche Comunque un colpo pazzesco Ma soprattutto dobbiamo ringraziare Dobbiamo oltre a ringraziare il nostro mister Dobbiamo ringraziare la società perché la società ha spinto Anche vedendo il mercato della Roma in uscita bloccato perché le cessioni ancora non sono arrivate Però la Roma ha detto senti quando partirà partiranno i vari esuberi che devono ancora partire partiranno Per il momento ci portiamo a casa la Coglia La Coglia è della Roma Un colpo enorme dei Fretkin che io non smetterò mai di ringraziare Veramente uno, penso, una delle presidenze migliori che abbia avuto nella storia la Roma Io perlomeno mi sono innamorato della nostra presidenza L'offerta è così modulata e sarà accettata di bala un triennale da 6 milioni totali divisi In parte fissa e bonus 4 milioni e mezzo La proposta è quella lì che vi ho fatto il video ieri 4 milioni e mezzo di parte fissa Più un milione e mezzo di bonus Ovviamente bonus facilmente raggiungibili Ma la Roma potrebbe anche ritoccare il contratto e magari fare 5 più 1 In base alle richieste del calciatore Che comunque c'è intesa tra la società e i suoi dirigenti di Dybala Quindi si potrebbe pure fare 5 più 1 Ma complessivamente vanno a finire comunque sempre 6 milioni Lui è accettato Il giocatore potrebbe scegliere la maglia numero 10 La maglia numero 10 concessa dal capitano, da Totti Decisivo l'impatto di Mourinho Che ha convinto il calciatore argentino a scegliere la Roma E non il Napoli e non aspettare più l'Inter Perché l'Inter era quella che praticamente è Andrà all'Inter, andrà all'Inter, andrà all'Inter Invece E si attacca Dybala Oie vieni Te vengo a prendere a fiumicino Mette un collo sulle spalle Mette un collo sulle spalle Ora si prepara l'esodo per accoglierlo Detto questo ragazzi miei vi saluto perché usciranno altri video ovviamente Un video un po' più dettagliato sull'operazione Vi parlerò Oggi è solamente una reaction Poi ne parlerò meglio Magari farò anche live con altri tifosi della Roma Parleremo della Oia Non vi preoccupate Usciranno diversi contenuti su Dybala Quindi nei prossimi giorni Tenetevi aggiornati con la campanella attiva E ovviamente iscrivetevi al canale Un mi piace Ditemelo a vostro acquistato con un commento Un salutone Dai Dybala Dai Dybala Sempre Forza Roma Oia come to Rome Oia come to Rome Dai Dai Una coglia per Mourinho Una coglia per Mou Ciao ragazzi Bella